Sono vecchio ormai, la mia lingua sai, ne conosce storie più di un po', ma quando chiedo a te quale racconto vuoi da me, un altro non ce n'è. Il mio nome è Willy Wonka, faccio cioccolato, vorrebbe essere il mio guardiano? Sarebbe un onore, signore! Per festeggiare preparerò del cioccolato. Ti racconterai tutti i viaggi miei, dalla Libia fino a Santa Fe, ma quale storia mai riascoltare chiederai? Willy Wonka! Un'altra non ce n'è, perché il mio Charlie somiglia proprio a me. Charlie che magie, che miracoli facciamo, che magie Charlie stende nell'oscurità. E poi aggiungi zucchero e umetta!